Sempre nell'ambito del ricordo di Maradona abbiamo cercato uno dei personaggi più importanti della vita di Maradona. Gianni Di Marzio, mister Gianni Di Marzio, ma soprattutto un grande competente per quanto riguarda la scelta di talenti, competente che certamente è riuscito a vedere sempre oltre gli altri. Io ringrazio Gianni Di Marzio per essere con noi, siamo in collegamento in diretta. Salve mister, grazie per essere con noi di Teleischia. Grazie, 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 ci mancherebbe. Allora, lei è molto legato alla nostra isola anche per i trascorsi calcistici. Io so che dalla Flegrea venne a giocare con i nostri colori giallo-blu qualche anno fa. Ricordo male? No, no, ricordo bene, ma io ho giocato l'ultimo mio campionato proprio con l'ischia. Poi è proprio lì che mi ruppi il ginocchio e smesi di giocare per fare poi l'allenatore. Proprio ad Ischia, il presidente Ferrandino, me lo ricordo benissimo. Come no? Poi io ho degli amici a Ischia. Oltre Pino Taglia la Tela ho tanti amici. Certo, Ischia per me rimane sempre nell'ampito delle mie preferenze, del mio cuore, dei miei piaceri. In effetti, va detto, carriera da calciatore interrotta, però subito allenatore. Io ricordo delle esperienze davvero importanti, una su tutte, Pisa con Casale Mediano, se non ricordo male. Un Pisa che faceva davvero bene, tant'è vero che poi dopo lei passò nelle file del Napoli qualche anno dopo. Ricordo male? No, io feci un po' una serie di squadre dei dilettanti. Un anno addirittura allenavo due squadre, Inter Pianurese e San Feliciano, e vinsi il campionato con tutti e due le squadre, perché si giocava nel girone cittadino e la San Feliciano nel girone regionale. Alle due e mezza, a Napoli invece l'Inter Orofi giocava la mattina, ma anche nella Coppa Pensitieri, come guarda caso, arriva in fondo alla Coppa con tutte e due le squadre che si dovevano incontrare, ma io non potevo stare su tutte e due le panchine, quindi in quel caso lì abdicai, lasciai perdere perché mi sembrava veramente una fazza poi. Detto questo, poi ho fatto un po' altre squadre, ho fatto squadre napoletane, perché mi sono trovato bene e poi sono andato a fare i giovani dell'Inter Napoli, dove ho vinto il primo titolo italiano, il trofeo Beretti, poi mi dietro la prima squadra con Chinaglia e quindi da lì poi sono partito. Chinaglia, Wilson, se non ricordo male. Come? Anche Wilson mi sembra faceva parte del gruppo. Sì, come no, Wilson, Chinaglia, Palcini, Val, avevamo una squadra forte, perché poi Inter Napoli voleva diventare la seconda squadra cittadina, però io facevo i giovani solo quando mandarono via l'allenatore Montez, mi dietro la squadra, ma non solamente a me, eravamo in due. Delella e Dio, che tra l'altro Delella era un allenatore molto molto bravo, che non so perché non abbia fatto carriera, ma tecnicamente e tatticamente era sicuramente da Serie A, tanto per aver conosciuto tantissimi allenatori in giro per il mondo, questo Delella era bravissimo. Detto questo, ho poi d'allenato i giovani del Napoli, dal giovani del Napoli saltato alla Nocerina, e poi ho vinto i campionati dalla B alla A con il Catania, dalla B alla A con il Catanzaro, dalla C alla B con il Cosenza, dalla B alla A con il Venezia come direttore sportivo, ho vinto in Inghilterra con il Queen Park Rangers, dalla Championship, dalla Serie B alla Premier League, e quindi ho preso due seminatori d'oro, sono soddisfatti e contenti, e poi decisi, con questa esperienza alle spalle, di accettare l'offerta della Juventus per andare in giro per il mondo come responsabile del settore estero, dove alla Juventus essi gli ho portato, tra virgolette, i vari Cristiano Ronaldo, lo stesso Messi, Fernandinho, Casimiro, Ibrahimović, glielo feci prendere, anche se mi dicevano che non era compatibile con il Treseguet, ma non era vero, perché Ibrahimović ha piedi i brasiliani, Gironza a largo, gira a largo, mentre Treseguet è un uomo a dare di rigore. Cosa vuole? Questi sono i piaceri della vita, ma con Maradona era tutta altra cosa, quando l'ho visto in Argentina. Allora, mi permetta di fare la domanda. Io ricordo giovanissimo Lessi su Sport Sud, lo sport del mezzogiorno, Gianni Di Marzio scopre il vero talento dell'Argentina, non viene convocato da Menotti, è il mondiale del 78, c'è la guerra delle Falkland, l'Argentina vuole vincere, però il giocatore più forte non è stato convocato. E Diego Armando Maradona, lei lo propone al Napoli, ricordo male? No, 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 ricordo benissimo, io sono andato a vederlo, perché? Perché andavo a vedere altre partite, perché io, diciamo, quella è nata lì, il Napoli andava ristrutturato, quindi Bugni, Ciorlandini, Clerici, famosissimo, c'è tra avanti il brasiliano, Carmignani, Esposito, erano tutti giocatori al limite di età, e quindi ristrutturammo il Napoli con tutti i giovanissimi di categoria inferiore, Stanzione, Capone, Mosellin, Ferrario, e arrivamo a fare la finale di Coppa Italia e un piazzamento in UEFA, quindi il memore di questi risultati... Un certo Maio che fece un gol a Milano in quegli anni? Sì, come no? Fu la prima volta che dopo 17 anni che andammo a vincere, allora c'era Rocco in panchina, mi ricordo benissimo, come no? Vinceremo 1-0. Il Milan viste lo scudetto, ieri a Fanzino a vedere la partita a tifare per quel Napoli, mi ha portato bene. Quindi detto questo, e poi dopo, ma con Maradona era tutta altra cosa, era ai margini, mi capitò di avere questa soffiata di un tassista, io il chiamai in società, in società c'era un italiano che era trapiantato lì da 30 anni, un ingegnere calabrese di Aiello Calabro che era tifoso dall'alto del Catanzaro, quindi aveva stima e simpatia nei miei confronti, e lo voleva anche la Juve con Sivori, quindi lui preferiva darla a me che era un calabrese, quindi aveva un certo legame affettivo nei miei confronti. Non si presentò alla partitina, doveva andarla a prendere in questa favela a Villa Fiorito, un sobborgo di Buenos Aires, un sobborgo molto, molto, ma molto malandato, e a me dopo, quando gli ho promesso che lo portavo a Napoli, gli cambiavo la vita, lui giocò, io un quarto d'ora l'ho fatto uscire perché ha fatto tre magie qualcosa di speciale e si vedeva che era una divinità del calcio, capito? Però mi preoccupavo che i giornalisti che avevo al seguito, uno era Angelo Pescianoli del Corriere dello Sport, l'altro era Franco Esposito del Mattino di Sport Sud che aveva fatto proprio lui il titolo Sport Sud Sport e Mezzogiorno e io lo feci firmare subito e gli spogliatoi, andai giù insieme al Presidente, a settimia Loviso, l'ingegnere e gli feci firmare e poi da loro 20 giorni è stato sempre con me a pranzo, a cena, lo portavo a vedere le partite, l'ho conosciuto caratterialmente e mi ha accompagnato anche in aeroporto l'ultima giornata, il ministro, non ti dimenticare di dirvi in spagnolo, e cosa vuole? Poi invece a Napoli, nonostante costava poco, il Presidente non ce l'ha, le frontiere erano giuste, erano del vero, però si poteva parcheggiare in Svizzera, ma il Presidente evidentemente bisogna dire anche che allora giocava un solo straniero e poi il Presidente di allora appunto su Crolli, il primo straniero del Napoli, quindi scelse non male. Ma non quell'anno lì, assolutamente, quell'anno lì mi comprò Castellini, Caporale, Filippi, però il problema era lo straniero, ricordo male mister, che c'era solo lo posto. Te lo dico io sicuro al 100%, perché poi l'anno successivo ero rientrato all'Argentina a maggio, avevo incominciato la preparazione, 5 partiti Coppa Italia, li ho vinti tutti e 5, la prima partita di campionato con l'Ascoli ho vinto, siamo andati a Firenze, ho perso e mi hanno mandato via perché teneva già Vinicio, il contratto di Vinicio che tra l'altro era stato il mio compare Danello e quindi è buon per lui, ma lui era progettualmente Ferlaino cercava i nomi per fare gli abbonamenti però con me aveva riusciato, mi aveva fatto riusciare anche a me con quattro ragazzini ero arrivato dritto dritti in finale di Coppa Italia. Vabbè ma ha detto questo io sono rimasto poi quell'anno fermo, ho incominciato a fare televisioni con la buonanima di Maurizio Barenson, con Gianfranco De Laurentiis, con Giorgio Martini onestamente andavo a vedere le partite all'estero e poi dopo le commentavo il mercoledì e cosa vuole? La vita è così e poi lì gli anni ho avuto la fortuna di vincere due seminatori d'oro no io sono soddisfatto, poi è chiaro che adesso è il momento purtroppo di questa grossissima agghiacciante notizia che ci ha preso dalla morte di Maradona che mi ha portato via secondo me parte di me stesso perché lui era di famiglia era tra virgolette un secondo figlio ecco in effetti mister noi quello che abbiamo detto e che hanno detto un po' tutti peccato che sia durato poco come calciatore e poco nella vita Maradona era purtroppo era prigioniere della sua divinità della sua notorietà ha capito non è mai stato consigliato bene non è mai stato protetto mai non è mai stato protetto Napoli è una città pericolosa sotto questo aspetto perché c'è gente bravissima bellissima aristocratica gente buona di cuore e di tutto perché come i napoletani come gli schitani ovviamente i capresi sono gente di prima qualità però purtroppo c'è una parte di gentaglia che è zavorra e quindi lì bisognava aiutarlo come guida per esempio in Argentina lui si faceva guidare da un dottore che aveva una farmacia lì vicino a Vilo Fiorito un certo Carlo Sotrotta e lui stava sempre lì faceva quello che diceva io infatti il contatto lo tenevo con questa farmacia dall'Italia purtroppo è così gente approfittatori poi ce lo sono venduti lasciamo stare perché se no mi amareggia ancora di più oltre quello che oltre il dolore della sua morte noi consideriamolo come calciatore e poi che lui abbia voluto scegliere abbia voluto fare questo tipo di vita era un problema suo ma andava aiutato andava aiutato sicuramente allora mister Maradona è stato certamente il riscatto per la Napoli calcistica per la Napoli che voleva vincere ma anche Napoli è stato il riscatto per Maradona che veniva da un'esperienza a Barcellona dove alla fine avea dato tanto però era stato quasi buttato nel cestino un poco da tutti perché non era stato considerato all'altezza del suo valore no no questo no lui non andava d'accordo con un dirigente adesso mi ricordo il nome mi pare che sia Mass Gerard qualcosa di questo non mi ricordo il nome non andava d'accordo perché questo era uno di quelli che voleva intervenire sui discorsi tecnici no no Maradona a Barcellona ha fatto molto bene però è chiaro che io gli avevo fatto il lavaggio mentale su Napoli quindi come gli è capitato a Napoli sapendo il pubblico fu da Napoli ha fatto due palleggi c'erano 80.000 allora mi ha dato subito ragione infatti ci sentimmo subito mi disse mister in spagnolo ho fatto la scelta giusta spero che qui io gli farò vincere lo Scudetto era un condottiero in quel momento io ho avuto il piacere quando mi chiamò che quantomeno avevo avuto diciamo un atto d'amore verso la mia città nel fargli conoscere Maradona e forse anche un atto di competenza perché in quel momento a Napoli avrò bisogno di un leader avrò bisogno di un di un'icona vincente per fronteggiare calcisticamente le squadre del nord che gli potesse dare a Napoli maggiore prestigio maggiore ruolo maggiore nobiltà calcistica ecco e Maradona era un trascinatore era veramente il capo aveva come dicono in Inghilterra casting aveva personalità aveva grandissima autorità in assoluto era un trascinatore con Maradona giuvono a Napoli anche Careca Bagni Carnevale Giordano tanto per fare alcuni nuovi in effetti diventa l'attrattore per anche altri grandi calciatori perché si inizia a capire che a Napoli si può vincere sì sì è vero è vero poi ci sono tutti grandi giocatori ci mancherebbe giocatori importanti che sono stati determinanti affinché Napoli vincisse lo scudetto con lui che era in effetti il capo come l'ho detto prima grande autorità era al di sopra di tutti Maradona faceva le cose le cose più difficili con una facilità irrisoria si divertiva a fare quella cosa lì si divertiva perché faceva era amante del gioco del calcio gli piaceva il calcio e lui basti si allenava con il pallone era a posto poi ripeto è caduto è scivolato in quei discorsi io preferisco non affrontarli perché quella è la rovina dell'essere umano la cocaina in assoluto in effetti lui ha fatto pure un mea culpa in un'intervista in Argentina dicendo cosa sarei stato senza la cocaina in effetti questo è un pentimento è un mea culpa però tutti quella cozzaglia di gente che gli stava attorno che si sono mangiato i soldi lui era una slot machine tirava giù i soldi chi più ne ha più ne mette la verità è questa qua poi ci giriamo intorno gli portavano le donne a casa non ne parliamo perché io veramente mi addoloro ancora di più quasi più della sua morte perché mi sono sempre addolorato per questo io da lontano non sono perché poi io lavoravo anch'io facevo l'allenatore a Catania a Cosenza a Venezia andavo in giro non potevo stare lì a fare il badante capito assolutamente poi non era nel mio costume farlo allora per quanto riguarda Diego Maradona calciatore ha vinto quello che nessuno poi ha più vinto a Napoli ma ha vinto anche da solo in nazionale perché nell'86 quella nazionale era Maradona e basta più altri giocatori sì c'era Valdano del Real Madrid forse Barricocea se non ricordo male quello che ha vinto la donna naturalmente la vinto con i giocatori noi non ce li ricordiamo mentre Pelleli ha vinto Carrincia Gerson Zagallo Gersinio con dei grandi giocatori in effetti è stato l'unico giocatore a vincere da solo un mondiale quindi più grande di lui davvero è difficile trovarlo anche se il paragone con Pelleli regge però oggi come oggi forse anche in questo momento di dolore tutti noi siamo portati a dire lui è stato il più grande ma non è che doveva morire per dirlo perché è come quegli artisti del genio della pittura che quando muoiono hanno maggiore valore Maradona l'ha dimostrato da vivente di non avere confronti con nessuno assolutamente se Maradona avessi giocato in Brasile faceva 2000 gol non 1000 come le ha fatti Pelleli se Maradona teneva quei campioni intorno Maradona vinceva non 3 mondiali ma ne vinceva 6 quindi è un discorso troppo lungo e ci dilunghiamo in una cosa che non è il momento visto che c'è un lutto veramente per quello che mi riguarda nella mia famiglia ok allora io la ringrazio per questo intervento è stato gentilissimo io le chiedo un suo aneddoto finale un suo pensiero finale su Diego Armando Maradona che lei ha cresciuto come un figlio e purtroppo ha visto di partire troppo presto ma l'aneddoto con Maradona ce ne stanno tantissimi resta il fatto da parte mia il rammario di non averlo potuto allenare perché se l'avessi allenato io a Napoli sicuramente lo mettevo in guardia dai pericoli della città di quel 20% che la zavorra quindi sicuramente sicuramente perché a Napoli conoscivo tutto conoscivo tutto e sapevo come muoverci quindi Maradona lo mettevo in guardia di tutto ne avrei parlato con la società la società avrebbe certamente assecondato le mie idee mister andremo al San Paolo intitolato a Diego Armando Maradona prossimamente penso penso che sia il minimo che si possa fare il minimo assolutamente ok grazie per l'intervento gentilissimo grazie a voi grazie a voi a presto grazie